come immagina la prossima edizione del festival del cinema di roma abbiamo letto di recente una sua intervista pacatamente critica può dirci cosa si dovrebbe fare per dare alla rassegna capitolina un'identità che la distingua meglio a livello internazionale e la differenzi quindi del festival del cinema di venezia io mi auguro che la prossima edizione sia molto più bella di quella ultima che a me non è piaciuta e non mi permetto perché non sono una persona di cinema di dare consigli o suggerimenti perché ripeto al contrario di quanto ha fatto il sindaco di roma con l'altro consiglio di amministrazione che è stato di fatto distrutto solo per un imperio atto di imperio politico io rispetto l'attuale consiglio di amministrazione quello che continuo a credere è che roma aveva e deve continuare ad avere una sua peculiarità e questa peculiarità è di essere un festival popolare e cioè che fa incontrare il grande cinema di qualità con migliaia di persone in questo è un grande elemento di promozione dello strumento cinematografico io questo elemento l'ho visto molto invece marginale nelle ultime edizioni ho visto purtroppo alcuni accenti delle non più belle edizioni del cinema di venezia dove forse però anche per la storia di venezia perché fisicamente lì è collocata nel lido questo aspetto della partecipazione dei cittadini è sempre stato più marginale delle ultime edizioni e per questo è venezia roma era qualcosa di più era una grande festival che abbracciava per dieci giorni la città e il festival era nella città la presenza di leonardo di caprio a torbella monaca non era un caso ma era un'idea di far vivere attraverso la figura di una stare internazionale ai giovani di torbella monaca la concretezza e la bellezza della cultura dell'arte cinematografica ecco io penso che si dovrebbe tornare a ritrovare quest'anima del festival che poi ne giustifica l'esistenza perché se no facciamo solo venezia a questa alicea una di quelle esperienze del festival che è forte perché non ha perso questa vocazione non c'è dubbio del coinvolgimento delle classi un'altra bellissima esperienza l'abbiamo fatta noi in provincia con cinema e storia per cui abbiamo portato in un film del cinema italiano d'autore dentro le scuole per studiare la storia per arricchire le date storiche con le atmosfere che il cinema ci ha aiutato a ricostruire ora se diventa una struttura stabile anche qui dipenderà dal futuro e soprattutto dal comune di Roma però sicuramente anche qui va recuperata un'altra cosa che si sta perdendo di questa idea che aveva prima il festival di non rinchiudersi nei dieci giorni delle edizioni ma di essere un qualcosa che a quei dieci giorni l'esploit ma poi disseminava durante il corso dell'anno tanti piccoli eventi quella è un'altra delle cose da recuperare e se fosse possibile anche da stabilizzare io penso che a Roma ci sia una grande esigenza più in generale di dare concretezza e stabilità al mondo del cinema cioè a questa meravigliosa industria culturale che addirittura prima dell'esistenza del festival non aveva neanche riconosciuta una identità e che invece dovremmo recuperare io dico addirittura il tema del museo del cinema pensiamo alle scenografie pensiamo ai costumi che sono chiusi nei magazzini del grande cinema italiano e che sicuramente in una città che ha un milione di abitanti e per la forza che ha il cinema italiano nel mondo sarebbe una meravigliosa una meravigliosa opportunità di arricchimento dell'offerta culturale e turistica della città se poi ci mettete vicino che abbiamo tantissime aree dismesse magari pubbliche e chiuse unire questa grande cosa che abbiamo all'amore per la cultura darebbe sicuramente vita a tanti progetti La zona delle caserme abbandonate nelle vicinanze di via Guidoreni non potrebbe diventare la sede perfetta per un polo della comunicazione una sorta di città dentro alla città degna quindi di una grande capitale e di una grande regione? Sì ma ce ne sono anche tantissime altre pensiamo a tutta la zona di Testaccio pensiamo a tutte mi permetto di dire le aree dismesse dell'ex struttura ospedaliere padiglioni e metri quadri e metri cubi enormi non c'è dubbio io mi auguro che ci sarà l'occasione con la nuova amministrazione comunale che io mi auguro cambi per unire le forze e solo unendo le forze dare concretezza alla necessità semplicissima di riempire gli spazi pubblici urbani respire di funzioni la bellezza dell'auditorium è data non solo dal disegno meraviglioso di Renzo Piano ma dal fatto che dentro quello spazio urbano ci sono delle funzioni importanti dedicate alla cultura noi dobbiamo prendendo la mappa di Roma e mi permetto di dire non solo di Roma ma anche delle altre zone fuori Roma riempire e studiare a tavolino come questi spazi fisici urbani li si riempiono di funzioni in questo caso il cinema potrei anche dire la produzione dell'arte contemporanea noi abbiamo avuto in pochi anni il macro il maxi che se noi mettiamo insieme alla storia museale della città e ai fori ci fanno dire che a Roma è un luogo unico nel pianeta terra perché c'è la colonna traiana e il maxi quindi non c'è nessun altro angolo del pianeta che ha al suo interno una capacità di offerta in quel caso su sulla storia sull'arte che va dall'antica Roma all'arte contemporanea del giovane artista di oggi eppure abbiamo pochi spazi predisposti alla produzione creativa dell'arte contemporanea e abbiamo questo campo dato in mano alle gallerie oppure a coloro che vogliono investire questo è un altro bel capitolo però come vedete è tutto figlio della necessità di avere in testa un'idea un obiettivo e che l'obiettivo poi è semplicemente sintetizzabile la cultura è un investimento e non è un costo si torna sempre lì